Il momento che vive il settore dell'automotive in provincia di Frosinone non è dei migliori. Nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano non c'è la piena occupazione. In attesa di buone nuove, a medio e lungo raggio ci sono però imprenditori che continuano a credere e a investire sul gruppo. Un esempio arriva dai coliri che diventa a tutti gli effetti casa Stellantis. Noi ci crediamo e oggi abbiamo investito, stiamo continuando ad investire molto nel mondo Stellantis. Non a caso da poco abbiamo completato l'acquisizione di tutti i brand rappresentati da Stellantis. Infatti a coliri è diventata una casa Stellantis. Casa Stellantis significa che il concessionario ha tutti i brand della gamma Stellantis. Quegli storici XFCA, Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e veicoli commerciali Fiat. I nuovi sono Opel, Peugeot, Citroen e DS più tutti i veicoli commerciali di Opel, Citroen e Peugeot. Novità importante poi per i dipendenti, parenti di primo grado e per gli ex dipendenti dello stabilimento del Cassinate. Da inizio novembre infatti possono comprare le auto direttamente dai dealer che rappresentano il brand Stellantis alle stesse condizioni di chi le compra nello stabilimento. Con un po' di insistenza da parte dei concessionari e devo dire anche con l'insistenza di molti dipendenti del gruppo Stellantis ha deciso di riaprire l'opportunità di acquistare presso i dealer ai dipendenti dal 2 di novembre. Quindi i dipendenti Stellantis, gli ex dipendenti Stellantis e tutti i loro parenti di primo grado potranno riacquistare le vetture con le stesse condizioni che sono riconosciute all'interno dello stabilimento presso i concessionari e in questo caso presso la Ecoliri. Ovviamente ci sono condizioni diverse rispetto ad un normale utente, ad un normale fruitore che vuole comprare una macchina. Sì, ci sono delle condizioni diverse perché il mondo Stellantis, il gruppo Stellantis, ricalcando già quello che era di FCA riconosce delle condizioni diverse di acquisto a tutti i propri dipendenti. Ricordo che potete avere questi extra sconti, questi sconti particolari nelle nostre sedi principali che sono quella di San Giorgiallieri, di Latina e di Terracina.